Ciao a tutti, spero che adesso mi sentiate. Ciao a tutti quelli che mi seguono adesso e quelli che mi seguiranno invece in differita. Io sono Lucio Besana, sono scrittore e sceneggiatore di generi horror e weird e sono qui per parlarvi appunto della mia passione per i generi oscuri, per la parte oscura del fantastico sia letterario che cinematografico, in particolare di un aspetto di questa passione. È da quando ero bambino che sono attratto da questo tipo di materiali, uno dei miei primi ricordi di infanzia sono io sotto un ombrellone che leggo di Landog, mentre i miei cugini e mio fratello sono in acqua a fare quello che i bambini di quell'età dovrebbero fare in spiaggia. E fino a quando ero bambino e poi attraverso tutta la mia carriera di scrittore e di sceneggiatore che ha fatto di questa passione, di questa ossessione un lavoro, mi sono sentito porre una domanda, una domanda specifica che è perché l'orrore? Perché scegliere, perché leggere, perché scrivere, scegliendo una rappresentazione espressionistica del mondo che mette in luce il rosso del sangue, che mette in luce la fragilità del corpo, che mette in luce tutto ciò che c'è di negativo, aggressivo, tutto ciò che appunto ci fa paura del mondo e della vita. Perché non scrivere una commedia? Perché non riempire il tuo pubblico e te stesso di speranza? Ed è una domanda che in qualche maniera mi metteva in difficoltà perché ero io il primo a pormela. Anche se non ho mai pensato che esporre lo spettatore o il lettore alle forme più crudeli, più alle forme più oscene, alle forme più aggressive del male sia in qualche maniera un atto deleterio per lui, non ho mai pensato di farli, di rendergli un disservizio in questo senso. È sempre stato molto difficile per me mettere a parole perché. Perché non fosse, in che modo in qualche maniera questo atto non fosse deleterio per lo spettatore o per il lettore? Perché in realtà se andavamo a guardare i fatti, in qualche maniera i fatti dicevano proprio il contrario, i fatti dicevano che l'orrore ti porta in uno stato d'animo in cui, in qualche maniera peggiore di quello che avevi prima di leggere o di visionare un'opera di questo genere. Cosa succede quando noi guardiamo un film dell'orrore? Il nostro senso di realtà viene ampliato, la nostra realtà empirica viene estesa a delle possibilità e a delle presenze che normalmente nella nostra vita quotidiana noi non consideriamo. E queste possibilità e presenze poi permangono dopo la lettura e dopo la visione. Quindi noi continuiamo ad avere paura di Pennywise anche se i perdenti l'hanno sconfitto alla fine di It. Noi continuiamo ad avere paura di Pazuzu anche se alla fine dell'esorcista padre Carras si è sacrificato per liberare Reagan e così via. Ci sono film che quando li guardiamo abbiamo paura di spegnere la luce, abbiamo paura di andare a dormire con quelle immagini in testa. Quindi l'interpretazione che l'horror sia in qualche maniera un genere che esorcizza ciò che c'è di male in noi è un'interpretazione secondo me parziale o consolatoria perché in realtà quello che fa l'orrore è evocare delle cose a cui normalmente non pensiamo. E quindi a maggior ragione perché andare in questa direzione creativamente, andare in questa direzione nella scelta delle mie letture e delle mie visioni? Perché poi oltre a me tantissimi altri artisti, artisti plastici, musicisti, cineasti, scrittori, poeti, scelgono di rappresentare la disperazione e non la speranza, scelgono di rappresentare la rovina e non il futuro, scelgono di rappresentare il vuoto e non invece la vita nella sua accezione più positiva. Questa domanda per me è rimasta un enigma per molto tempo finché, mentre mi documentavo per il mio primo romanzo, La Stanza Bianchia, mi sono imbattuto in un libro che si intitola, per documentazione, che si intitola Le Libre Noire des Violences Sexuales di Muriel Salmonat. Muriel Salmonat è una ricercatrice, una psichiatra francese che ha speso la maggior parte della sua vita a informare il pubblico sul funzionamento della memoria traumatica. E leggendo il suo libro, che è uno dei più esaustivi che abbia trovato sulla neurologia e sulla sintomatologia del trauma, mi sono imbattuto proprio nel funzionamento neurologico del trauma e nel particolare stato psichico in cui mette chi sopravvive a un'esperienza traumatica. Dovrò fare una digressione nella neurologia, state con me, poi ci servirà. Allora, che cosa ho scoperto, che cosa ho imparato da questo manuale? Fondamentalmente il nostro corpo, il nostro sistema nervoso, ha un sistema di risposta a una situazione di pericolo che funziona molto bene, che è fatto apposta appunto per preservare tanto la nostra integrità fisica che il nostro equilibrio mentale. E come funziona? Quando noi siamo esposti a una situazione di pericolo, c'è fuoco nella stanza, sentiamo degli spari in strada, c'è una macchina che sta per investirci, c'è una regione del cervello che è l'amigdala, che si attiva. L'amigdala è quella regione del cervello che codifica il presente. In questo momento voi mi state guardando ed è l'amigdala che sta, in qualche maniera, esaminando lo stimolo. L'amigdala, quando vede un segnale di pericolo, si attiva e inizia a produrre ormoni in quantità massiccia, adrenalina e cortisolo, che sono quegli ormoni che aumentano la tua fragilità e la tua forza fisica. In buona sostanza prepara il corpo per reagire. Attivandosi l'amigdala, in qualche maniera, manda un segnale all'ippocampo che a sua volta si attiva. L'ippocampo è una regione cerebrale che funziona come un motore di ricerca. Quindi l'ippocampo raduna tutte le informazioni che ci servono per poter sopravvivere, per poter uscire da questa situazione di pericolo. L'ippocampo raduna le informazioni e le trasmette alla corteccia cerebrale, dove queste informazioni vengono integrate in una decisione. Noi risolviamo la situazione di pericolo, prendiamo un estintore, imbocchiamo un'uscita di emergenza, ci nascondiamo, facciamo un passo indietro prima che l'auto ci investa e la corteccia cerebrale comunica all'amigdala che il pericolo è scampato e che quindi può smettere di produrre ormoni. Non solo. Quello che rimane codificato, quando l'amigdala riceve il presente, rimane una traccia biochimica nell'amigdala che viene poi trasmessa all'ipotalamo, che diventa poi parte quindi dell'archivio di informazioni che andremo a consultare quando quel pericolo si ripresenterà. Quindi è un sistema che, come ho detto, è fatto apposta per preservare il nostro equilibrio psichico, il nostro equilibrio fisico, la nostra integrità fisica e è fatto anche per metterci nelle migliori condizioni possibili per reagire se un pericolo si ripresenta. Quello che è interessante di questo meccanismo è che fondamentalmente quello che ci dice è che noi possiamo mantenere una sanità mentale fin tanto che riusciamo a integrare quello che viviamo nella narrazione che abbiamo di noi stessi. Noi ci raccontiamo una storia sulla nostra vita, ci raccontiamo una storia che di solito è piuttosto confortante, è come se vivessimo in un episodio di Friends e ogni tanto però si cambiasse canale su un servizio di cronaca del TG in cui, se abbiamo fortuna, siamo solo comparse. Torneremo poi alla situazione normale e dovremo in qualche maniera assorbire questa esperienza sciocchiante, questa esperienza più intensa del solito nella nostra normalità. Ma per la maggior parte delle esperienze più intense e più emozionanti che ci capitano noi riusciamo a farlo. Possiamo andare sulle montagne russe e uscirne perfettamente sani di niente. Ci sono però delle esperienze, c'è un tipo di violenza in particolare che potremmo chiamare la violenza gratuita, che il nostro sistema nervoso non è programmato a concepire, non è programmato a reagire a questo tipo di violenza. Questo tipo di violenza è una violenza talmente smodata e insensata che comprende per esempio il gaslighting, il mobbing, che comprende l'esposizione massiccia alla violenza in zona di guerra, che comprende per esempio la molestia sessuale, lo stupro, l'aggressione fisica, la rapina a mano armata, eccetera, eccetera, a cui noi non riusciamo a reagire perché nella nostra narrazione in qualche maniera non c'è spazio per atti così insensatamente distruttivi. E cosa succede quando noi siamo esposti a questo tipo di violenza? L'amigdala si attiva, produce ormoni, il nostro corpo viene quindi preparato a reagire, ma l'ippocampo non trova informazioni che possono aiutarci ad affrontare o a uscire da un'esperienza di questo genere. Senza le informazioni raccolte dall'ippocampo la corteccia non sa cosa fare e quindi non potendo reagire al pericolo non può dire all'amigdala smetti di produrre ormoni. La produzione massiccia di cortisola e adrenalina da parte dell'amigdala è pericolosa perché questi ormoni in dosi controllate ci sono benefici, in dosi massicce sono velenosi, possono ucciderci e quindi l'amigdala è costretta per salvarci la vita a disconnettere l'amigdala dall'ippocampo. In questo modo la produzione di ormoni si riduce ma noi ci ritroviamo in buona sostanza con una disconnessione psichica che avrà poi delle ripercussioni a lungo e lunghissimo termine. Che cosa succede? Vi ricordate quando vi ho detto che l'amigdala codifica il presente, quindi quello che noi viviamo del presente rimane lì dentro finché l'amigdala non lo trasmette all'ippocampo, ma se quella connessione viene a mancare, se quella connessione è stata recisa, vuol dire che il presente in qualche maniera, quel particolare presente, quel particolare evento violento rimane intrappolato nei circuiti che codificano la nostra realtà presente. Sicuramente avete presente quelle scene, soprattutto nei fin di guerra, dove si parla di reduci a chi sono seduti in un salotto di casa loro e all'improvviso in un lampo si ritrovano nella giungla o in un campo di battaglia. Non è una semplificazione cinematografica di quello che avviene a un reduce di guerra, è esattamente quello che avviene. Perché quella parte, quell'esperienza traumatica che è rimasta incastrata negli organi che codificano il presente, non è mai diventata un ricordo e quindi rimane sottostante a tutte le esperienze presenti che facciamo in seguito. È come se fosse una realtà parallela, un presente parallelo che può riemergere in qualunque momento. E cosa succede poi invece a livello dell'ippocampo? Come vi ho detto, noi ci raccontiamo una storia su noi stessi e una storia per stare in piedi deve essere coerente, non deve avere buchi di narrazione. Quando noi subiamo, quando noi siamo esposti a una violenza traumatica che non riusciamo a integrare nel resto della nostra memoria, per i meccanismi che ho appena descritto, noi la nostra narrazione ha un buco di trama e quando c'è un buco di trama l'intera narrazione inizia a crollare. E questo ha dei sintomi che sono estremamente specifici. Non solo c'è il riemergere incontrollato di un ricordo che noi non abbiamo richiamato, che è quello di cui ho appena parlato, ma c'è anche per esempio uno stato psicologico che è quello dell'ipervigilanza. L'ipervigilanza è la lettura del mondo esteriore come un mondo che è sempre e comunque irto di pericoli, è un costante allarme giallo. Un altro particolare stato d'animo in cui versa chi è sopravvissuto a un trauma è la depersonalizzazione. La nostra narrazione è stata talmente minata alle sue fondamenta, la sceneggiatura è talmente crollata, che noi non riusciamo più a concepire noi stessi, i protagonisti di quella narrazione come reali. E quindi ci vediamo come, ci vediamo in terza persona, ci vediamo dall'esterno, ci vediamo come personaggi di una storia che non è più la nostra. E un altro sintomo è quello della derealizzazione, che è uno stato di dissociazione analogo, ma che viene proiettato verso il mondo esterno. Altri sintomi sono anche, per esempio c'è uno che è particolarmente feroce, che è quello della contaminazione psichica. Molto spesso chi commette un abuso su un'altra persona l'ha già ricevuto a sua volta, perché è come se l'aggressore riprogrammasse chi sopravvive, imponesse la sua narrazione sulla narrazione di chi sopravvive. E, incapace di vedersi al di fuori di questo episodio violento, chi sopravviva a quell'episodio violento molto spesso ha la compulsione di ripeterlo. E un altro... Ecco, questi sono fondamentalmente i sintomi di quello che noi chiamiamo la sindrome da stress post-traumatico, il disturbo da stress post-traumatico. E mentre leggevo questa parte, questa parte del libro Noir di Maria Salmona, continuavo a pensare a quelli che erano, quello che era l'immaginario del cinema e della letteratura dell'orrore, e continuavano ad arrivarmi dei parallelismi che erano estremamente evidenti. Pensavo, per esempio, alla degenerazione caratteriale di Reagan nell'Esorcista, una ragazzina che è delusa dal disinteresse del padre, che piano piano viene insidiata da una forza esterna che la trasforma in un essere usceno e mostruoso. O ancora pensavo alla degenerazione caratteriale di Jack Torrance in Shining, o alla degenerazione della famiglia Lutz in Amityville Horror. O ancora pensavo ai Deadites, gli Evil Dead di Sam Raimi, ai demoni che possiedono altre persone e che possono entrare in quelle persone solo se quelle persone sono state preventivamente ferite o hanno ricevuto dei traumi o degli abusi molto forti. O ancora pensavo agli zombie e ai licantropi che trasmettono la loro natura alla persona che aggrediscono, alla persona che feriscono. E ancora pensavo al cinema di Lynch, per esempio, dove la realtà non sembra reale, anche se il mondo di Lynch è un mondo che è fondamentalmente congruente al nostro, quando noi guardiamo i suoi film abbiamo sempre l'impressione che quel mondo sia la patina di qualcos'altro e che quindi non sia in sé reale. O ancora penso al sentimento di dissociazione che ci ispirano i film found footage. Il film found footage, presentandoci una storia in un linguaggio che noi consideriamo diegetico alla realtà e riempiendo quello spazio che si apre nella nostra percezione del reale di elementi reali, non soltanto in qualche maniera non danno un'idea di realtà quando li guardiamo, ma tolgono senso alla nostra realtà di spettatori, in qualche maniera indeboliscono la nostra realtà più che rinforzare la realtà della storia. E ancora, sto pensando ai film dove la disconnessione temporale è centrale, per esempio penso ancora una volta a Shining, alle apparizioni che appunto all'improvviso compaiono nei corridoi dell'Overlook Hotel, come dei ricordi che non sono stati elaborati, o ancora a quei film come Il sesto senso o Allucinazione perversa di Adrian Lyne, dove il protagonista è prigioniero di un presente che non vuole diventare futuro, un presente che non riesce ad evolversi e non vuole diventare futuro, molto spesso un presente che corrisponde o coincide con un evento traumatico passato. La casistica è talmente vasta che mi ci vorrebbero ore per esaurirla, però spero di aver, in qualche maniera, di avervi dato l'input per capire perché sono arrivato a pensare, leggendo questo libro noir di Morya Salmona, a quale potrebbe essere una chiave di lettura del genere horror, di che cosa veramente racconta il genere horror, il genere weird e i generi oscuri in generale. E vi propongo questa ipotesi per, in qualche maniera, spiegare in parte la mia ossessione per questi generi, ed è che il genere, i generi oscuri, quindi l'horror e il weird, in qualche maniera parlano il linguaggio del trauma. Non soltanto affrontando il trauma in maniera diegetica, quindi parlando di persone traumatizzate che devono superare i loro traumi all'interno della storia, ma anche in qualche maniera assorbendone il linguaggio, prendendo quella particolare caratteristica di dissociazione psichica che è comportata dalla sindrome da stress post-traumatico e inserendola nel linguaggio con cui raccontano le loro storie. Da questo, come dire, da questo assunto noi possiamo, noi possiamo vedere questo assunto in due modi. Il primo è il più banale. Come dice Stephen King, chi vuole in qualche maniera sfruttare questi generi oscuri deve trovare dei punti di pressione fobica, quindi andare a trovare quello che ci fa male, quello che ci fa paura. Ed è naturale, quindi, che chi voglia frequentare questi generi, chi voglia scrivere di questi generi o filmare questi generi, vada a vedere quello che ci fa male e cerchi di dentro. Un'altra ipotesi, che naturalmente non posso provare, ma che trovo molto interessante, è che in qualche maniera i generi oscuri, l'horror e il weird, siano espressione di un qualche tipo di trauma universale che ha attraversato le nostre vite nel passato e che in qualche maniera ancora echeggia nel presente. E quindi, perché l'orrore? Perché raccontare? Perché andare in quella zona oscura oggi? Chi è sopravvissuto a un'esperienza traumatica si rende conto di quello che è probabilmente l'aspetto peggiore della faccenda ed è che un'esperienza traumatica non può essere raccontata. Non può essere raccontata in parte perché a volte neanche ce la ricordiamo, perché la memoria non è immediatamente disponibile di quell'evento. La seconda è che i sintomi che noi sperimentiamo dopo un'esperienza traumatica sono difficili da riconoscere, sono difficili da associare a uno stato di anormalità. Quindi noi possiamo vedere, per esempio, la nostra motivazione che cala di colpo, possiamo vedere il nostro carattere che degenera, possiamo vedere, per esempio, che iniziamo a perdere amici e lavoro e non capiamo perché. E una delle ragioni principali per cui è impossibile raccontare il trauma è perché quando noi restituiamo l'esperienza traumatica alle persone che abbiamo attorno, quando noi la raccontiamo e cerchiamo di condividerla, troviamo, a volte deliberatamente, a volte in buona fede, un muro. Perché quando noi raccontiamo un'esperienza traumatica, il racconto dell'esperienza riempie di frustrazione e chi ascolta, e tutti noi cerchiamo di preservare il nostro equilibrio psichico meglio che possiamo, siamo portati quindi a razionalizzare quello che stiamo ascoltando in modo da abbassare questa frustrazione a livelli accettabili. Ed è per quello che quando noi raccontiamo un'esperienza traumatica a chi ci sta attorno, a volte ci sentiamo rispondere sei fortunato o fortunata ad essere ancora viva, te la sei cercata, se non guarisce perché non vuoi guarire. C'è quindi un atteggiamento di normalizzazione di questo tipo di esperienze. Ecco, prendiamo questo tipo di normalizzazione, questo tipo di atteggiamento, questa razionalizzazione, questa incapacità di elaborare l'esperienza traumatica non soltanto di chi la vive ma anche di chi la ascolta. L'horror e il weird, questo non lo fanno. L'horror e il weird chiamano il male con il suo nome, chiamano la malattia, malattia, chiamano la morte, morte. Non frappongono tra noi e il male un qualche tipo di narrazione mitica o consolatoria. Sto parlando dei film dell'horror naturalmente che in qualche maniera accettano e guardano il male con lucidità, quei film dell'horror che ti lasciano veramente ristabilizzato alla fine. Però in qualche maniera quello che loro fanno è guardare questo materiale inaccettabile senza filtri. È quello di metterci di fronte a quella che è l'estrema potenza del male quando si manifestano le nostre vite e alla solitudine in cui siamo chiamati ad affrontarlo. Si possono muovere delle obiezioni a questo tipo di lettura, per esempio, che potrebbe essere a tutti gli effetti quindi un genere deleterio, perché nel senso comune quando noi il male in qualche maniera diventa tanto più forte quando noi pensiamo che sia invincibile. Però chi ha affrontato il male sa che la riuscita nel combattere in qualche maniera non è legata a una presa di posizione strategica, a una positività di pensiero strategica, è legata a una lucidità nel capire di come è fatto e come affrontarlo. E ancora si potrebbe dire che non tutti sono stati traumatizzati e quindi perché il pubblico del cinema horror, del cinema weird, della letteratura horror, della letteratura weird raccoglie così tanti spettatori, così tanti lettori. La mia impressione, ed è ancora una volta, è una mia chiave di lettura, la mia impressione è che il pubblico di lettori e di spettatori del cinema e della letteratura horror sappia benissimo di quale trauma stiano parlando questi generi. E non bisogna cercare tanto lontano, anche soltanto nella realtà di tutti i giorni. La mia generazione, per esempio, è cresciuta con due frasi contrastanti nella testa, che sono sei quello che fai e non fai mai abbastanza. Viviamo in un mondo dove, anche se magari non è realmente così, il modo in cui ci arriva dalla narrazione esterna è quello di un mondo dove l'atteggiamento narcisista, l'atteggiamento cannibalico, è promosso in relazione invece a un atteggiamento che è più orientato alla collettività. E ancora, questo è un mondo che, in qualche maniera, dove la nostra immagine e i nostri corpi sono, da un certo punto di vista, espropriati e mercificati in tanti modi. Quindi è un mondo, se volessimo tradurlo in simboli cinematografici o letterari, è un mondo di vampiri, è un mondo di zombie, è un mondo di richeantropi, è un mondo di corpi espropriati, è un mondo dominato da una sorta di fatalismo cosmico, dove sembra che non ci sia una via d'uscita. Mark Fisher, in Realismo Capitalista, diceva che il paradigma in cui siamo inseriti, il paradigma che informa e costruisce la nostra società, ci è stato imposto con una serie di distorsioni cognitive che ci hanno fatto, in qualche maniera, smettere di credere che esista un'alternativa. E questo, paradossalmente, è la stessa cosa che fa un partner abusivo in una relazione tossica, convince l'altra persona che al di fuori di quella relazione non potrà vivere. Quindi, forse, quello di cui parlano questi generi, magari non è questo, magari è un evento storico che, in qualche maniera, echeggia fino a noi oggi. Il Novecento ci ha dato tantissimi eventi da cui essere traumatizzati sul lungo periodo. Ma forse, in qualche maniera, quello che ci attira verso questo materiale, verso questo immaginario, è l'intuizione che effettivamente c'è del male nascosto in quella che noi chiamiamo normalità. E che, forse, in qualche maniera, questi generi ci aiutano a visualizzarlo, ci aiutano a prenderne coscienza. Quindi, prima di dire, ecco, sto per finire. Quindi, se avete delle domande da fare, iniziate a scriverle in chat, perché noi abbiamo un piccolo delay nella ricezione di quelle domande. Quindi, se iniziate a scriverle adesso, inizio a rispondervi in tempi accettabili. Quindi, perché si scrive horror e weird per me? Prima di tutto perché non sono soltanto metafore del mondo esterno, perché il mondo esterno è fondamentalmente venuto da esseri umani. Quindi, quelle che sono le cose che ci fanno paura fuori, sono anche pulsioni, sono anche pulsioni e compulsioni che tutti noi abbiamo dentro. Quindi, funziona comunque come uno specchio oscuro di noi stessi. Ma anche perché, appunto, separa da un discorso di normalità, da un discorso di normalizzazione, tutta una serie di temi, tutta una serie di non detti, tutta una serie di indicibilità della nostra condizione che altrimenti, che nella conversazione corrente, che nella narrazione corrente, non troverebbero posto. L'horror e il weird parlano di tutto ciò di cui non possiamo parlare alle feste. Ecco. Sono dei generi guastafeste che, secondo me, almeno per la mia lettura che vi offro, poi potete essere d'accordo oppure no, non sono tanto deleteri, non sono tanto, non portano tanto a una disperazione. Secondo me sono il presupposto, invece, per una forma più sana di speranza. Per una forma più sana di speranza, per cui, se noi vogliamo salvare quello che resta di buono in questo mondo, dobbiamo comunque prendere coscientemente, lucidamente coscienza, di tutto ciò che buono non è. Con questo ho finito, aspetto le vostre domande. Allora, Marco chiede, nel genere horror è meglio svelare l'origine del male o al contrario è meglio tenerlo segreto? Dipende dal tipo di horror che stai facendo. Per la mia sensibilità, quando a un mostro viene attribuito una natura troppo precisa e vengono attribuite delle regole, è il momento in cui il romanzo smette di far paura. Nel momento in cui il vampiro viene ridotto a un essere che puoi, in qualche maniera, sconfiggere con un paletto nel cuore, l'aglio e l'acqua santa, il romanzo molto spesso è il momento in cui... o il film è il momento in cui si trasforma in un'avventura dai toni oscuri ed è il momento in cui smette di fare paura. I film dove il terrore rimane per tutta la visione, anche dopo la visione, sono quei film dove l'orrore non è spiegato. Per esempio, sto pensando a Shining. Non ci viene mai detto da dove arrivano gli spettri o a quello che secondo me diventerà un classico recente, un classico del cinema horror piuttosto recente, che è It Follows. Il follower, l'entità che segue i protagonisti, non si sa da dove arriva. Non si sa nemmeno esattamente quali regole segua ed è quello che fa paura. O ancora, ci sono film in cui l'intera situazione non viene spiegata per quanto sia surreale, come Skinamarine, che è un altro classico dell'horror contemporaneo. meno si spiega, essendo l'horror e il weird dei generi che indagano l'ignoto, che ci riportano a una dimensione primitiva dove noi non siamo in controllo del nostro mondo, dove noi non siamo in controllo della nostra realtà, meno si spiega e secondo me più funzionano, più è tematico quella sensazione che noi vogliamo ispirare al pubblico. Spero di averti risposto, Marco. Allora, grazie intanto per avermi ascoltato, grazie intanto per avermi seguito. Spero di rivedervi in un'altra masterclass come questa. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti. State ancora registrando? Oh, grandi. Allora, sono arrivate domande a caschiata adesso, scusate, allora. Quindi falso allarme e continuiamo. Qual è il tuo libro film horror preferito? Ce l'ho. Allora, il mio film dell'orrore preferito è Lake Mango, un found footage australiano che non è stato distribuito in Italia, seguito a ruota dalla cosa di John Carpenter, che è un film che mi segue dall'infanzia e che mi ha sempre trovato adorante, nel modo in cui anche lì l'alieno non è completamente spiegato nella cosa. Conosci il saggio di J.J. Cohen, Monsters Theory sulla natura politica del mostro e cosa ne pensi? Una delle sue sette tesi ci dice che il mostro abita alle porte della differenza. Non conosco il saggio. Alla prossima Masterclass lo leggo e ti rispondo. Ma non conosco la Monsters Theory di J.J. Cohen, scusami. Marco che mi dice, assolutamente sì, gli ho risposto. Grazie a te per la domanda. Provo un'altra volta a salutare, vediamo se arriva un'altra caschiata di domande. Allora, stavolta salutiamo ancora una volta, grazie per avermi seguito, grazie per le vostre domande e spero di rivedervi qui. Ciao a tutti!